Non c'è una sola sfida che abbiamo davanti che si possa vincere senza l'innovazione. In questo momento stiamo parlando di imprese altissime capacità di innovazione che mettono insieme capacità di matematica, ingegneria, fisica, scienza, biologia e naturalmente digitale che sono quelle che ci daranno la risposta all'invecchiamento della popolazione, alla nostra salute, al cambiamento climatico, alla nostra sicurezza, pensiamo all'intelligenza artificiale, alla difesa. Nessuna di queste sfide si può vincere senza un forte impegno dell'Unione Europea che metterà in campo e sta mettendo in campo tantissime risorse sia nel bilancio 2021-2027 sia nei fondi di Next Generation della Banca Europea di Investimento.